Arriva il caldo e torna il pericolo di incendi boschivi. Dai sindacati dei vigili del fuoco parte l'allarme per il rischio di sottodimensionamento dei servizi dedicati a questa periodica emergenza. FNS CISL, FPCGL, UILPA e CONFSAL hanno segnalato come la regione sia intenzionata a ridurre notevolmente i circa 900 mila euro che normalmente venivano destinati a garantire squadre e servizi aggiuntivi da Maratea a Policoro, da Melfia a Senise, da Ferrandina a Matera nel periodo dal 1 luglio al 15 settembre. Si parla di un finanziamento per il 2021 che sarà grossomodo la metà della somma abituale, circa 450 mila euro. Un budget giudicato dalle sigle di categoria assolutamente insufficiente, anche perché inferiore a quello già ridotto del 2020, quando pure il servizio fu assicurato con difficoltà e comunque grazie anche alle minori esigenze complessive dovute alla ridotta circolazione di gente per la pandemia. E il prefetto di Matera, Rinaldo Argentieri, raccogliendo la sollecitazione dei sindacati inviata anche al presidente della regione Bardi e al prefetto potentino Annunziato Bardè, ha convocato per giovedì prossimo un incontro con gli uffici Foreste e Protezione Civile della regione, i comandi dei Vigili del Fuoco e le organizzazioni di categoria. C'è ancora tempo per farsi trovare pronti, ma bisogna far presto.